Stiamo provando, eccoci a salire su tutti, vediamo il nostro fiudocopilota che si è già sistemato, due bimbo, abbiamo fatto spostare il bimbo, lo vuole il bimbo, adesso proviamo anche noi, la cittura di sicurezza funziona, adesso dobbiamo chiudere le portiere, che si fa? Sì, tiriamo, niente, noi siamo uomini duri, il finestrino non ci serve, ed ecco signori stiamo pronti per partire, devo schiacciarla di, a posto? Sì, ha messo il piede sul freno? Assolutamente no, lo ha messo. Ok, liberi il freno a mano che è sotto a sinistra, sempre tenendo il piede sul freno. E poi proviamo, signori stiamo partendo, prova del quadriciclo Twizzi. Allora, da 0 a 45 e 6 secondi. Allora, da 0 a 45 e 6 secondi.